Questo qui era il suo tavolaccio dove dormiva, dove aveva l'agonia ai piedi. Come vedete l'unico ripostiglio che aveva era quello lì. E qui c'è stato dal gennaio a fine maggio, inizio giugno. Voi immaginatevi ad Alessandria, la temperatura d'inverno andiamo sotto zero anche fino a 10-15 gradi. Mi lascio immaginare quello che poteva stare qui dentro. Il prigioniero veniva correcato su questo letto di tavola e con i piedi incatenati. Dopo la condanna hanno cercato di farlo parlare perché si riusciva a chiutare. E addirittura l'ultimo prezzo che gli hanno fatto quando l'hanno portato a fusilare a Piazza Genova, l'hanno fatto passare sotto il balcone di casa sua dove la moglie con i due bambini, la moglie incinta, lui li ha guardati e poi ha detto, andiamo avanti, e l'hanno fusilato in Piazza Genova. Prigione originale di Andrea Vocchieri, rinchiuso nel 1830.